Ansa, Torino, 21-8, Napoli-Inter. Pensiamo a vincere noi domani, anche se l'ideale è che finisca in pareggio. Così Massimiliano Allegri sul Big Mat di questa sera al San Paolo. Il Napoli sta confermando anche in Europa quello che ha fatto negli ultimi anni, continua il tecnico della Juventus. L'Inter ha in spalletti, grandissimo allenatore, un valore aggiunto. Adesso è una squadra solida con giocatori importanti davanti. Due delle antagoniste della Juventus nella lotta allo Scudetto. Le ritroveremo in fondo insieme a Roma, Milan, che è in ritardo, ma lotterà per le prime posizioni, e Lazio. Alla fine, però, credo che le squadre che lotteranno per il titolo rimarranno tre.